Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno, scusate, sono Antonio Maria Rinaldi, eccomi qua. Oggi parleremo con un personaggio della capitale. È un nome che conosciamo tutti perché identifichiamo in genere questo nome con il mondo dell'automobile. Sappiamo che in questo momento dai dati che leggiamo dai giornali, ma ce ne siamo accorti anche non leggendo gli articoli dei giornali, che il mercato automobilistico è in profondissima crisi. Chi meglio del dottore Andrea Colaneri, che è amministratore delegato dell'omonimo gruppo, può rappresentarci effettivamente qual è la situazione. Quindi dovremmo averlo adesso in linea. C'è il dottore? Pronto. Ah, buongiorno, innanzitutto grazie di aver accettato la nostra intervista. Buongiorno a voi e a tutti i vostri spettatori. Lei sa che io non sono un giornalista, non ho nessunissima pretesa, anzi non lo voglio essere, sono soltanto un economista. E quindi, sapendo benissimo che il suo settore è una cartina di tornasole per quanto riguarda la situazione economica, ho pensato di intervistare una persona che ha il polso della situazione reale. E chi meglio di lei, perché lei è una tradizione di famiglia nel campo automobilistico romano e della provincia di Roma, non indifferente. Di soli 50 anni. Solamente di 50 anni, ecco, diciamolo. Solamente di 50 anni. E quindi la domanda iniziale, proprio la prima domanda che credo che chiunque le formulerebbe, è proprio questa. In quale situazione in questo momento noi ci troviamo? Ma il mondo dell'automobile in questo momento penso che sia il segno più evidente della crisi. Certamente. Io quando parlo dell'automobile parlo dell'intero comparto dell'automobile. Ecco sì, perché spieghi bene, perché noi quando diciamo il settore automobile pensiamo semplicemente al discorso della persona che entra nel negozio, compra una macchina e esce. Innanzitutto iniziamo a dare un po' di numeri, dottor Colanelli. Ma guardi, per almeno... In Italia cosa significa la parola auto in Italia? La parola auto in Italia significa un numero molto alto di concessionari, un comparto che dà lavoro a circa un milione e duecentomila persone. Un milione e duecentomila persone, cioè fra diretto e indotto, quindi dal meccanico, da chi vende i pezzi di ricambio, da quelli che lavorano per le società di assicurazioni, per assicurare tutto. Un milione e duecentomila persone. E' un comparto che crea un gettito fiscale che pesa il 16,6% sull'intero gettito fiscale del nostro paese. Aspetti, ripeti che questo dato è estremamente interessante perché purtroppo passa dalle nostre tasche. Il comparto auto pesa sul gettito fiscale del 16,6%. Dell'intero gettito fiscale anno. Quindi è vero quando si dice che gli italiani sono spremuti come un limone dal settore automobilista. Ma questo è vero, d'altra parte è vera la battuta che ormai il mondo dell'automobile è diventato il bancomat del governo. Io quando parlo del mondo dell'automobile ci metto dentro la benzina, ci metto le varie tasse sull'acquisto dell'auto nuova, l'acquisto dell'auto nuova. L'IVA. E' così, purtroppo l'IVA. E' così. Guardi, io da economista le posso dire, non ho qui la calcolatrice, però le dico che il gettito fiscale italiano, cioè lo Stato italiano, incassa sotto tutte le voci possibili immaginabili dal fisco circa 820 miliardi di euro. Se uno è bravo a farlo, il 16,6% esce fuori una cifra spaventosa. E questo deriva solo ed esclusivamente dal mondo auto. Dal mondo dell'automobile. Credo che non esista nessun altro tipo di comparto merceologico, commerciale. Assolutamente, assolutamente no. Esatto. Assolutamente no. Le voglio dare però un'altra cifra che è molto importante. La ringrazio. Oggi, nella situazione attuale, ci troviamo a un meno 42% rispetto al periodo anticrisi. Attenzione, quando parlo di periodo anticrisi, non sto parlando degli anni 40, sto parlando del prima del 2007, sto parlando del 2005. Perché attualmente, come siamo, ancora il 2012 non è terminato, però abbiamo dei numeri, delle tendenze. Ma guardi, il mese scorso il mercato ha perso il 25%. Ecco, sì, ho letto proprio questo. Ad agosto, se non erro, vada a memoria, ad agosto le vendite di autovetture in Italia hanno avuto una contrazione che non si era mai verificata dal dopo guerra. Però le posso dare un numero che fa ancora di effetto? Se ci caliamo sulla realtà romana, Roma oggi si trova in una situazione tale da aver perso vendite a privato, perciò togliamo le aziende, togliamo gli avnoleggi, ha perso il 70%. Cioè il privato, il 70% dei privati non acquista più auto. Certamente l'auto rappresenta un bene marginale e in un momento di crisi è, diciamo, l'ultimo bene in sostituzione. Assolutamente, anzi, è la prima volta che accade che si rottavano più autovetture che acquistano auto nuove. Ah, aspetti, aspetti, questa è interessantissima, questa cosa è interessantissima, dottor Colanelli. Mi spieghi, è la prima volta, se ho capito bene, che vengono rottamate di quanto? Più auto rispetto a quelle che vengono acquistate. È come il discorso della natalità, muoiono più di quelli che nascono praticamente. Previssimo. È lo stesso identico concetto. Ma questo significa che se dovesse continuare così praticamente si estingue il settore automobilistico. D'altronde, guardi, io le dico sinceramente, si fa un po' di demagogia sul discorso dell'auto, no? Perché si dice, ed è un'opinione comune, dire benissimo, se ne può fare anche a meno. Sicuramente noi siamo in Italia ancora dei comodoni, no? Ci piace la macchina. Però effettivamente, devo dire con estrema sincerità che ci sono delle situazioni, specialmente nelle aree urbane, come Roma, è veramente un problema. Perché se andiamo ad analizzare, è vero che facendo il sacrificio di alzarsi anche un'ora prima è possibile poter prendere mezzi, coincidenze metropolitane. Poi è anche vero che se noi andiamo a vedere all'interno della famiglia, la famiglia organizzata magari deve portare i figli a scuola, li deve andare a riprendere, ci sono delle situazioni in cui effettivamente l'automobile è ancora indispensabile, assolutamente indispensabile. Sono d'accordo con lei. Ecco, questo bisogna dirlo. Quindi al di là della demagogia... Mi permetto di dire, va sottolineato, perché poi soprattutto noi abbiamo l'esempio di Roma. Lei si immagini se una persona deve accompagnare i figli, poi andare al lavoro, usando la metropolitana o l'autobus, penso che gli occorrono quattro ore per fare tutto questo. Certamente, ne va anche della qualità della vita, diciamolo. È chiaro, perché se mi devo alzare alle 5 della mattina, va da sì che la macchina la devo comunque in ogni caso prendere in alternativa al giro dell'oca che in genere debbono fare le persone per poter raggiungere il proprio posto di lavoro. Senta, entrando nella sua realtà, ci trasferisca un pochino la situazione attuale. Cioè, io so che gran parte della fortuna delle vendite, fortuna fra virgolette, del numero delle vendite negli anni passati era dovuto anche al fatto della possibilità di poter prendere a credito, cioè a confinanziamenti o a rate, l'autovettura. Com'è attualmente la situazione? Noi, prima le ho detto, siamo sul mercato da 50 anni e abbiamo dato servizi e diamo servizi sulle auto nuove, auto usate, l'assistenza. Ecco, perché voi non vendete solamente automobili. No, 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 noi vendiamo automobili, le assistiamo e le noleggiamo con un noleggio a lungo termine. Ah, quindi avete anche servizi di... ho capito, ho capito. E come dice lei, per chi acquista c'è anche il discorso del finanziamento. Beh, era un classico, no, acquistare la macchina a rate, anzi c'erano delle buone condizioni, Lei ha usato la parola giusta, era, perché oggi per un cliente prima di tutto è molto difficile avere un finanziamento da una finanziaria. Già, è vero, effettivamente l'accesso al credito è difficilissimo per qualsiasi forma di, anche micro azienda, figuriamoci per il privato che si presenta. Bravissimo. Certo. Ma ormai la gente ha capito questo e ci sono molti più pagatori in contanti, cioè gente che paga in contanti che non quelli che fanno il finanziamento, cioè la gente viene, già sa... Ah, questo è un paradosso, questo è un paradosso, io ero convinto del contrario, cioè ragionando con un ragionamento canonico pensavo che in un momento di crisi fossero in un aumento le vendite a rate, invece mi dice che è il contrario. Sì, è esattamente il contrario, la gente paga e chi può paga in contanti. Ah, perché c'è una difficoltà di accesso al credito giustamente e quindi chi ha la possibilità di poter cambiare, perché a questo punto non dico acquistare perché tutti ce l'abbiamo l'automobile, quindi di sostituire la macchina la paga in contanti. Sì. È un paradosso, è un paradosso. Mi dispiace dirlo ma è anche una triste verità perché poi è inutile nasconderlo, il finanziamento per noi era comunque un punto di margine, ci togliamo anche quello oggi i concessionari, non dico che vanno al di sotto del break even, ma quasi. Io ho letto sui giornali che moltissime concessionari in Italia si trovano veramente in enorme difficoltà perché, ripeto, non siamo più nel periodo in cui le persone acquistavano per la prima volta l'autovettura come avveniva negli anni 50, 60 e 70. Siamo alla sostituzione della seconda, della terza vettura, tutti hanno la macchina per la moglie, per il figlio, eccetera. E presentarsi quindi da una concessionaria ad acquistare significa darne indietro un'altra, quindi significa per l'azienda impegnare altro denaro perché voi praticamente dovete pagare, mi correga se sbaglio, assolutamente perché non sono un esperto del settore, ma praticamente voi dovete acquistare dalla casa madre l'autovettura. Certo. Esatto.